ben ritrovati ragazzi oggi osserveremo un secondo ritratto è un'opera che va di pari passo con quella delle donne gualdo già osservate in precedenza i due dipinti prima di essere ospitati nella nostra pinacoteca si trovavano uno accanto all'altro nel palazzo signorile di questa famosa famiglia vicentina in borgo pusterla ancora una volta una mano ci invita a leggere il messaggio di quest'opera è una mano decisa quasi imperiosa che indica una scritta boni et equi di chi sarà cosa vorranno dire quelle parole in lingua latina la mano appartiene a giuseppe capo famiglia dei gualdo famoso giurista vissuto nel rinascimento una sorta di avvocato notaio dei nostri tempi l'opera ritrae gli uomini anzi i gentiluomini del casato giuseppe indica a paolo il figlio più grande le parole poste sul dorso di un grande libro di legge collocato sopra un tavolino e gli ricorda che esse rappresentano il motto della loro onorata famiglia la nobiltà d'animo l'equilibrio la giustizia né a rivolgersi verso i propri concittadini con l'altra mano più morbida più amorevole trattiene l'altro figlio più giovane paolo emilio che osserva pure lui ciò che il padre indica lo sguardo di giuseppe è quello di un padre severo esigente che mostra i figli la strada per ottenere il rispetto nella società in cui vivevano quello di paolo è attento concentrato su ciò che il padre gli suggerisce mentre quello di paolo emilio è più malinconico il suo carattere forse era più irrequieto di quello del fratello e le regole gli stavano un po strette chi lo può dire il capo famiglia è avvolto in un mantello austero tutto nero mentre i due ragazzi indossano brache corte e gonfie rosse a sbuffo da dove escono calzabrache anch'esse rosse sul busto hanno corsetti verde pallido aderenti quasi tagliati a forma di corazza era la moda di quell'epoca che arrivava dalla spagna tutto lo sfondo e scuro giovanni fasolo il pittore vuole mettere in evidenza questi personaggi senza distrarre gli spettatori da altri particolari togliendo così efficacia il messaggio del dipinto celebrare la nobiltà e l'importanza sociale dei gualdo il nostro sguardo infatti viene catturato soprattutto dai loro visi e dalle loro espressioni soprattutto da quella di giuseppe che sembra comparire improvvisamente dal buio